E' un'altra occasione a Borgo, ragazzi, imparate, siamo in un evento, si parte solo al via. E voglio il countdown, il conto, la volescia, tutti assieme, fuori la voce, 5, 4, 3, 2, 1. Ragazzi, godetevi la Coppa di Sera, godetevi questa giornata a Borgo Masugana. Via, 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 via Sali! 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 Vince! Francesco Cali! Diciassettesima vittoria per Francesco Cali! Sali! 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 Grazie a tutti.